Il senso è sicilissimo, guardatevi! Allora, signor amici, io sono certo che tutti voi venite a tracorso di quanto credisciti che c'è una natura in difficoltà del mondo. Beh, di finire già quando si va a una certa natura, diciamo. Ma immaginate in me, ci dovessero fare all'iniziativa. 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 Ma immaginate in me, ci dovessero fare all'ираzione di quella. E' una piccola cucinaia, da questa parte, e io ne ho spesso altro, sembra che devo andare a fare una piccola scelta. Allora, su di qua la sinistra, non capisco, è una piccola cucinaia quella. Ecco le facce, tutti i ragazzi, 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 tutti i ragazzi. Ok, ci siamo. Io ci siamo. Facciamo come una bella gante, poi i piloti spiegheranno il cavallo, qui dovranno tenere la grappa, che verrà occhi motivi di sicurezza. E poi partiamo. Ok, ci siamo. Bene, vedete che si fa un po', si è dal canchello i piloti, non vi preoccupate, ci ti serve tempo. Però il telefono nel diritto quando sta a chiedere lavoro. Sono informazioni importanti, sono essenziali, il piloti non pure viene male, se non c'è un piccolo. Allora, mi pare che ci siamo finalmente... Ho fatto meno, però. Lo sguido d'altro, è vero. E che non è tutto, è vero. Perché è la mia, non va bene. Non si aggiunge a questo sì, ma non si aggiunge a questo sì ancora prima di partire. Se non è una buona, non è vero, non si fa spesso un lito dalla tensione. No, è vero, è vero, è vero. Grazie.